La nave Argo non avrebbe mai dovuto spingersi fin qui. Meglio sarebbe stato se non avesse preso il volo verso la Colchide, oltre le azzurre Simpleiadi. Con Giasone andava d'amore d'accordo. Quando la moglie va d'accordo con il marito, tutto è perfetto. Ma ora, tutto le si è voltato contro, è ferita nell'affetto più grande. E di Giasone la colpa, sì, ha tradito la mia signora e i suoi stessi figli. Ho paura che stia tramando qualcosa di terribile, perché è una donna terribile. È violenta di natura e non sopporterà l'affronto. Io la conosco bene. È capace di attirare sotto in sé una sventura sempre peggiore. È una donna cattiva se la si ostacola. Chi viene in urto con lei, difficilmente esce vincitore dallo sconto. Tenete che chi lontani ha l'amato. Ho cattivi presagini. Muoia nel disprezzo, chi osa disonorare l'amore, dopo che minimo gli abbia arso il cuore. Questo sarà il dolore peggio. Grazie. 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 Grazie.